Fino a oggi siamo accorti che tanti altri autori invece di parlare del fascismo parlano dei fascisti. Cioè cosa aveva fatto un fascista come persona, se aveva fatto bene, se aveva fatto male, se stava buono, se aveva stato cattivo. Ma che cosa aveva fatto veramente il fascismo, questo io non l'avevo mai trovato da nessuno. E proprio per far conoscere il pensiero fascista, per cercare, dicono gli autori, la verità sui tanti aspetti di quel lungo periodo della nostra storia, è nato Fascismo, Stato sociale o dittatura, presentato oggi a Leondoro. Un libro scritto a sei mani, quelle di Andrea Piazzesi, Edoardo Fantini e Martino Mussolini, nipote di Vittorio, primo genito di Benito. Tutti e tre appassionati alle vicende del fascismo. Anni di studio e ricerca per far conoscere la carta del lavoro, che definiscono la quarta funzione dello Stato. La convinzione raggiunta con questi studi, abbiamo poi riportato nel libro, è che il fascismo fu la quarta funzione dello Stato. Cioè gli Stati moderni hanno tre funzioni. La funzione di fare leggi con il Parlamento, di amministrare vari enti di Stato con il governo e di amministrare la giustizia con i tribunali. A questi il fascismo ha aggiunto la quarta funzione, che fu quella di organizzare il lavoro per tutti i cittadini italiani. Un libro nato, dicono gli autori, per le nuove generazioni, affinché siano libere di giudicare come andarono realmente ai fatti, ma non solo. Ci sembrava opportuno finalmente sfatare una credenza ormai radicata da sempre, cioè quella che Mussolini fosse un dittatore. Ebbene Mussolini non era un dittatore, era un capo del governo come tutti gli altri e non a caso nominato dal re e poi dal suo stesso re deposto. Per cui questo sicuramente dimostra che non era assolutamente un dittatore.